Eh sì, eh sì ragazzi, eh sì, eh sì, è sick parade, è sick parade ragazzi, è sì, è sick parade, è sick parade ragazzi, benvenuti, benvenuti in un nuovo episodio della rubrica che colleziona per voi le 10 notizie di mercato più importanti del momento e ve le schiaffa così in faccia di dritto e di rovescio Ieri ragazzi purtroppo è uscito solamente un sick parade perché non lo avete supportato, siamo arrivati solo oggi a mille mi piace quindi come promesso ieri niente altro sick parade, se volete altri video, se volete altri sick parade non vi resta che supportare questi miei contenuti perché altrimenti non escono Detto questo iscrivetevi al canale, arriviamo o a mille mi piace qui sotto o a 60.200 iscritti per un nuovo sick parade Detto questo partiamo, partiamo dalla notizia numero 10 che in realtà è una notizia molto importante ovvero che Ousmane Dembélé sarebbe diretto al Paris Saint Germain Lo sapete ormai, Dembélé ha questo contratto in scadenza e il mondo deportivo lancia la bomba e dice che la possibilità che Dembélé giochi in un futuro prossimissimo, cioè recentissimo tra poco al parco dei principi è legata al nome del nuovo allenatore, dipenderà molto dall'allenatore che andrà in panchina, si parla di Zidane, si parla di Galtier ad ogni modo però tutte quelle situazioni correlate con il nuovo allenatore del Paris Saint Germain si andrebbero a sbloccare dopo l'annuncio quindi di Maria, quindi Keylor Navas e Donna Rumma, quindi Ousmane Dembélé in entrata certo è però che Dembélé al Paris Saint Germain secondo me potrebbe fare la differenza anche perché è vero che a Barcellona spesso ha faticato soprattutto per via di troppi problemi comportamentali però va detto anche che Dembélé è un calciatore straordinario, non a caso il Barcellona lo pagò più di 100 milioni di euro al tempo e non a caso il Barcellona vide e vede e vede, no ormai non lo vede più, Smane Dembélé come il futuro Neymar su quella fascia lì poi c'ha avuto i suoi problemi, non è mai stata nemmeno la scarpa destra di Neymar purtroppo per lui però secondo me al Paris Saint Germain ancora di più a parametro zero sarebbe veramente tanto, tanto, tanto farebbe moltissimo e darebbe una grossa mano alla squadra parigina quindi per quanto mi riguarda se il PSG riesce a prenderlo, soprattutto a zero, fa un colpaccio gigantesco l'unica cosa che mi domando è Neymar, Messi, Bappé, Ousmane Dembélé ma il Paris Saint Germain ne riesce a comprare anche dietro o deve per forza comprare davanti? no perché io non comprendo, cioè non comprendo sinceramente la decisione cioè va bene, ha una grossa mano, ti spezza le partite, Messi inizia ad avere 35-36 anni, quanti cazzo ne ha? però boh, però non lo so, non riesco a comprendere è vero che l'occasione di prendere la zero che fai, te ne privi? e no che non te ne privi, però boh posizione numero 9 per l'interesse da parte del Marsiglia che sta facendo la serie a team e non team, T-I-M ma team T-E-A-M, gioco di parole e vuole prendere anche Luis Muriel, dopo aver preso Under, dopo aver preso Gerson loro c'hanno Milik, c'hanno Paul Lopez, c'hanno tutti c'hanno la serie a negli ultimi giorni avevo parlato dell'interesse da parte del Marsiglia per Jordan Veretout ecco che adesso si interessano anche a Luis Muriel qual è il discorso? il discorso è che l'Atalanta vuole 15 milioni di euro che non sono nemmeno troppi, però ragazzi Muriel è un giocatore che nell'ultimo anno è stato spesso infortunato c'ha un'età che non è più un ragazzino, Muriel è chiaro a tutti e la sua carta d'identità parla chiaro e quindi sarebbe fondamentale riuscire a monetizzare un minimo monetizzare un minimo significherebbe volere 15 milioni di euro io fossi il Marsiglia, se realmente sono interessati a Muriel 15 milioni li spenderei alla fine abbiamo visto che è un giocatore che ti cambia le partite poi bisogna capire anche se sarà in forma, quanto gli potrà dare una grossa mano però secondo me Muriel è un calciatore che ti cambia le partite vedremo la trattativa come andrà avanti alla posizione numero 8 abbiamo forse individuato quello che sarà l'attaccante del Chelsea del prossimo anno perché Lukaku è in uscita, perché Timo Werner convince e non convince e allora sono giorni caldi perché con la partenza di Lukaku secondo il Sun si andrebbe a rimpiazzarlo con l'attaccante dell'Everton brasiliano Richarlison che è in uscita dall'Everton che andrà via, che vuole ovviamente fare un upgrade importante perché parliamoci chiaro ragazzi, con tutto il rispetto per l'Everton l'ultimo anno si sono salvati per il rotto della cuffia e questa non è la dimensione di Richarlison cioè la dimensione di Richarlison è sicuramente una dimensione molto più importante di livello assolutamente più alto cioè non posso pensare che Richarlison debba fare una carriera in cui l'ambizione, l'obiettivo è quello di salvarsi anzi, credo comunque che lui possa ambire a palcoscenici più importanti e ormai il Chelsea sono un paio d'anni che segue Richarlison questo potrebbe essere il momento giusto in realtà c'è anche il Tottenham però tutto è legato ad una improbabile a questo punto visto che l'anno scorso sembrava vicina ma adesso sembra abbia fatto pace con la squadra e con il cervello partenza di Harry Kane cioè se parte Harry Kane è molto probabile che il Tottenham vada a prendersi Richarlison ma con Harry Kane è molto difficile quindi attenzione perché Richarlison potrebbe andare al Chelsea posizioni numero 7 per la Salernitana che starebbe monitorando il profilo di Mattia Destro a parametro 0 voi direte ma perché hai messo la Salernitana sopra il Chelsea e il destro sopra Richarlison? perché è più forte, no scherzo perché è italiana e l'esterno italiana ci interessa di più mi interessa particolarmente perché poi in realtà destro è voluto da tutte da Lecce, da Spezia, tutte vogliono Mattia Destro perché è un parametro 0 che non scenderà giù con il Genoa e tra le altre cose se dobbiamo essere sinceri lo scorso anno ha fatto anche abbastanza bene in Serie A quando ha giocato è riuscito a fare la differenza queste sono cose che dice il Corriere dello Sport cioè l'interesse da parte del Lecce, l'interesse da parte dello Spezia e per ultimo ma non per importanza ovviamente l'interesse da parte della Salernitana sono tutte cose che va a monitorare il Corriere dello Sport bisognerà capire perché la Salernitana ha perso Sabatini e ha preso Morgan De Santis quindi non so nemmeno se De Santis abbia ancora iniziato ad avere dei contatti stretti perché comunque si è insediato da poco quindi è difficile che si vada a lavorare dopo tre giorni però magari De Santis ne sta già parlando ad ogni modo avere davanti destro per le piccole di Serie A potrebbe far comodo perché ormai negli ultimi anni si è assestato come un attaccante da salvezza e quindi tutto sommato male non farebbe quindi alla posizione numero 6 attenzione alla posizione numero 6 abbiamo le parole di Vagnati, direttore sportivo del Verona che dice no non è Vagnati, quello è quello del Torino ho detto una cazzata, volevo dire Marrocco scusatemi, Marrocco nuovo direttore sportivo del Verona che dice piccoli lo stiamo rinnovando, lo stiamo prendendo perché Simeone andrà via anzi vi leggo direttamente ciò che dice per farvi capire che non sto facendo clickbait lui dice per piccoli dico che secondo me che secondo la mia esperienza finché non ci sono le firme è meglio avere cautela per gli ottimi rapporti tra il Verona e l'Atalanta posso dire che su piccoli siamo ai dettagli il resto stavo per morire il resto sono per lustrazioni sul mercato dovessimo iniziare il campionato con questa rosa saremmo una squadra top ad ogni uscita corrisponderà un'entrata su piccoli ci siamo portati avanti perché presumiamo che Simeone possa avere offerte rinunciabili ma tranquillamente anche se non dovessero arrivare potrebbe rimanere nella rosa poi ci sono anche giocatori incedibili quindi lui dice chiaramente ci sono giocatori incedibili però non è tra questi Simeone anzi probabilmente arriveranno offerte rinunciabili e quindi prendiamo piccoli perché deve diciamo prendere il posto di Simeone se posso permettermi poi magari il nuovo allenatore del Verona farà un lavoro talmente tanto importante da farmi alzare le mani però se posso se posso permettermi perdere Simeone per prendere piccoli mi sembrano 5 passi indietro 5 passi indietro perché con tutto il rispetto ragazzi cioè magari i piccoli da qui a un anno diventa la punta della nazionale però Simeone quest'anno ti ha fatto più di 20 gol e io capisco che tu magari davanti a determinate offerte devi sacrificare un calciatore di questo tipo però mi aspettavo che prendessi un profilo un po' più importante ecco si era parlato di Henry del Venezia che comunque c'ha già più esperienza magari potevi andare su un Joao Pedro magari potevi andare su un ma non lo so però avete capito quello che intendo un calciatore che magari conosce meglio la Serie A e che in qualche modo magari un Piontek se effettivamente la Fiorentina non lo riscatta cioè un giocatore che mi dà un po' più di tranquillità su piccoli è un lancio che devi fare mentre Simeone anche prima di questa stagione top era già al top quindi personalmente cioè al top tra l'Ellas Verona quindi sinceramente non è una mossa che reputo proprio la migliore di sempre se posso essere sincero ma questi sono i miei due centesimi posizione numero 5 per l'Inter che continua ad affondare e da offendere le varie mosse dirette al Chelsea per prendersi Romelu Lukaku ieri c'è stato questo grandissimo contatto che riporterebbe Lukaku con la maglia dell'Inter l'Inter mette sul piatto in questo momento 5 milioni di euro per il prestito oneroso mentre il Chelsea che ne voleva 30 o 25 adesso ne chiede 15 c'è un minimo di distanza ma se l'Inter realmente vuole prendere Romelu Lukaku allora deve un pochino avvicinarsi alle richieste del Chelsea perché è normale che questi ti hanno dato 100 milioni lo scorso anno e quindi è normale che in qualche modo si debba fare per cercare di come posso dire risparmiare i centesimini ma dargli comunque i soldi che gli chiedono quindi 15 milioni secondo me è una cifra adatta alla fine si potrebbe chiudere sui 12 sui 13 milioni fate attenzione fatto sta che se l'Inter dovesse prendere anche Lukaku secondo me farebbe uno dei tri più forti degli ultimi anni e sicuramente il più forti della Serie A Lukaku Lautaro Di Bala sarebbe qualcosa di veramente veramente clamoroso posto sempre che poi non parta Di Bala perché se Di Bala parte allora stiamo parlando di un'altra situazione va monitorata e presentata completamente in altro modo però la notizia importante è che ieri e ne parla anche di Marzio ci sono saliti grossissimi passi in avanti posizione numero 4 per l'offerta la prima offerta ufficiale da parte del Manchester United per Eriksen vi ne avevo parlato vi avevo parlato del fatto che Eriksen fosse sotto l'occhio del ciclone che lo volessero tutti nonostante lui abbia chiaramente detto che vuole tornare a giocare la Champions e il Manchester United non fa la Champions ecco forse per questo è più adatto il Tottenham per me il Tottenham è la squadra perfetta per Eriksen perché ci acconte perché fa la Champions perché è la sua ex squadra quindi ci sono un sacco di motivi per cui Eriksen dovrebbe tornare al Tottenham però in questo momento The Athletic parla del fatto che lo United la prima offerta l'abbia già fatta e vorrebbe Tenag portarsi Eriksen a Manchester io ve l'ho detto se arrivasse l'offerta del Tottenham io fossi Eriksen tornerei al Tottenham si torna sempre dove si è stati bene anche se non si torna mai dove si è fatta la storia ma queste sono altre storie quindi capiremo quale delle due versioni insomma varrà fatto sta che lo United il primo passo lo ha fatto è un primo passo importante e quindi adesso valuteremo ciò che succederà posizione numero 3 per le parole di Gnonto che ha detto sono interista l'ha detto chiaramente anche perché lui esce dalla prima vera dell'Inter non so se vi ricordate un giorno mi piacerebbe tornare ma ho tanto tempo davanti a me quindi quello che dice è sì è vero tifo Inter è vero e comunque tra le italiane l'Inter mi piace ma non è detto che io oggi vada all'Inter lui ha 18 anni e parla al Corriere della Sera e parla praticamente a cuore aperto quindi è molto chiaro in quello che dice sul calciomercato ragazzi le strade sono infinite negli ultimi giorni pare che l'Hoffenheim ad esempio faccia sul serio e potrebbe anche essere che l'Hoffenheim faccia sul serio non so sinceramente dove il calciatore andrà se rimarrà a giocare in Italia se rimarrà a giocare in Svizzera dubito se andrà a giocare in Italia se andrà a giocare in Germania lo vedremo sicuramente accetterà il progetto più complesso dal punto di vista delle difficoltà del campionato perché non rimarrà in Svizzera però sicuramente più adatto alle sue caratteristiche sarebbe tanta roba a vederlo in Italia ma l'offerta dell'Hoffenheim apre a scenari molto 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 interessanti alla posizione numero 2 troviamo il Bologna anzi in realtà l'Arsenal anzi in realtà entrambi cioè l'Arsenal continua a monitorare il Bologna e adesso sarebbe molto vicina a prendere Haiki avrebbe offerto 24 milioni di euro secondo il Daily Mirror ovviamente davanti ad una cifra di questo tipo è impossibile che il Bologna dica no lo ha pagato una stronzata veramente 2-3 milioni se non va derrato e adesso il calciatore che insomma è ancora molto giovane ma 24 milioni ragazzi sono tanti ecco il Bologna sarebbe pronto a prenderlo e a impacchettarglielo vi posso dire che io non capisco le scelte societarie cioè l'Arsenal già c'è cascato prendendo Tomiyasu dal Bologna che in Serie A faceva benissimo ma in Premier ha fatto fatica perché andare a prendere anche Haiki certo Haiki è qua secondo me Tomiyasu è qua ci sono due cose proprio che non c'entrano nel mondo però ragazzi questo è quello che è davanti agli occhi di tutti quindi io 24 milioni non li avrei spesi però Haiki secondo me è un signor calciatore e quindi sono molto curioso di vedere quello che farà anche in maglia Gunners fatto sta poi che lo debbano prendere però vedremo quello che succederà posizione numero 1 per il Milan perché perché Noah Lang avrebbe detto ufficialmente di voler andare via dal club Bruges però però diciamo che il dubbio è abbastanza importante vi leggo quello che ha detto dice non ho nessun accordo con Milan o altri non so da dove arrivino queste notizie l'accordo con il Bruges è che deve arrivare un'offerta su questo entrambe le parti sono d'accordo voglio continuare a crescere e quindi devo fare un pass in avanti quindi questo vuol dire me ne vado chiaramente me ne vado lo farò con tutto il mio amore amo il club e darò sempre il 100% nel caso in cui io rimanga ma non rimarrà però lui è chiaro e dice deve arrivare un'offerta se arriva un'offerta devo fare un pass in avanti nella mia vita allora me ne vado e il Milan attenzione perché continua a monitorarlo secondo me l'unico problema del Milan è che si sta lasciando un po' fuorviare da De Ketteler perché sa che De Ketteler sulla carta dovrebbe essere più forte e non penso che il Club Bruges te li dia entrambi e quindi tu sei lì a dire lo prendo non lo prendo lo prendo non lo prendo lo prendo faccio l'affondo per De Ketteler però così c'è il rischio che arrivi un'altra squadra magari di Premier tipo il Newcastle offra i soldi che chiede il Club Bruges per Nova Lang glielo impacchetti poi tu vai ti sei distratto per prendere De Ketteler e loro dicono guarda abbiamo già venduto Nova Lang non perderemo anche De Ketteler perché non smembra la squadra certo è che si arrivano due offerte importanti il Bruges vende tranquillamente senza nessun problema però comunque la verità è che in questo momento il calciatore sta aspettando un'offerta il Milan farà l'offerta vedremo eh sì ragazzi eh sì eh sì è SIG Parade è SIG Parade è SIG Parade fatemi sapere la vostra fatemi sapere la vostra raga mille mi piace appena arrivano il momento esatto in cui arrivano mille mi piace esce subito immediatamente un altro video di SIG Parade ne la faccio più sono stanco c'ho caldo ciao addio è stato un piacere fare affari con voi cioè manco troppo ciao